...e loro sono due ragazzi e insieme a questi due ragazzi però hanno una mamma e una zia che conosciamo da 30 anni, con le quali collaboriamo da 30 anni perché anche Cris e Lucia arrivano da quella scuola quindi insomma diciamo che i rapporti Maurizio e noi cerchiamo di tenerli stretti assolutamente sì perché per noi è una famiglia importante no? assolutamente questa è anche la GDS esatto quindi io questo premio lo vorrei dare ai campioni italiani in carica che sono Cappiele, Entramo, Ospadone, Parisi, Elisa Sorrentino ma vorrei stare qui con i copri anche non avvolgente via Meri e speriamo che questi ragazzi riescano a trasmettere all'interno della scuola di Meridie di Settimo che riescono a trasmettere ovviamente tutto quello che è il buono delle danze latinoamericane e che riescano anche loro a creare dati i campioncini ok? grazie a tutti i campioncini 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 Grazie mille. 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 Grazie mille.